Il progetto Bianco Blu va avanti e prosegue seguendo la sua strada maestra, dare continuità al percorso per raggiungere sempre maggiore solidità sportiva e aziendale. Il futuro si gioca nel presente e la Dinamo Banco di Sardegna oggi è lieta di annunciare la conferma dello staff Bianco Blu per i prossimi due anni. A guidare i giganti saranno ancora coach Gianmarco Pozzecco, gli assistenti Edoardo Casalone e Giorgio Gerosa insieme con il preparatore fisico Matteo Boccolini. Mentre la squadra in campo gioca questa parte importantissima e cruciale della stagione, il club lavora anche ai propri obiettivi a più lungo termine pianificando, costruendo e organizzando l'attività che gli consentirà di crescere e consolidarsi al suo interno e sulle scene del grande basket.